Ah ah Hank, rapper in faccia, white chicken studios, cn famiglia nel posto, cn finest, yo 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 Cambia la forma ma in musica tutto ciò che ci circonda da qui, tutto ritorna ma è stato più elaborato da lì Cavalca l'onda del passato che è stato così scontato e se ci pensi insomma è ancora così Puoi fare ciò che ti pare, quello che conta è celarli, messaggi come nel mare in una bottiglia baccardi Sentiamo cosa sai fare rispetto agli impressionarmi, baluardi che al gran finale ribaltano i personaggi Gettonarmi sarebbe il promo, promuovo un concetto, puoi ascoltarti ma ci provo e provo un nuovo sconcetto Volevo viaggi per loro, ma il male ce l'ho scoperto, ora che i sogni li ignoro, sogno di fare un concerto E' certo che no, non sperimentare come ti permetti, fai hip hop perché noi altri non sappiamo fare altrimenti Anormali riferimenti sono frutto di un casuale miscuglio, trasfero personale, dubbi e tormenti Grazie! 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 Grazie!